Signori bentornati in un nuovo episodio di Ark Nell'episodio precedente abbiamo finalmente preso un nuovo terzino molto più forte Un castoro che alla fin fine non ci serve manco un caso perché appunto abbiamo il terzino E abbiamo migliorato quello che è il nostro mollo Minchia mi sono alzato, mi sono teletrasportato praticamente Abbiamo migliorato quello che è il nostro mollo Come potete vedere là in fondo abbiamo fatto quella fantastica casetta Con tanto di ponte, qua i passaggi che portano fino a lì E quant'altro Oggi andremo finalmente a caccia di qualche nuovo animale Io mi avvicinerei alle zone delle viverne E se tutto va bene riuscire a prenderne anche qualcuna Ovvero l'uovo Come vi ho detto nell'episodio precedente però purtroppo non abbiamo attualmente modo di scludere l'uovo Perché in questa mappa non si può fare l'incubatrice Bisognerebbe andare su Genesis 2 Craftarla lì ma io Genesis vi dico la verità non l'ho mai giocata Non so che cazzo c'è su Genesis Ho sempre pensato di farmi una partita bella dark E poi insomma andare su Genesis Cosa che non ho poi mai fatto Allora io poserei la pistola perché fa proprio cagare Ma veramente cagare Li rimuovo l'accessorio, il laser e lo equipaggerei piuttosto sul fucile Dobbiamo fare se riusciamo dei colpi per il fucile a pompa Ci portiamo il fucile come difesa La balestra ci mancano le frecce E devo pure svuotarmi un paio di robe qua Vediamo se nel comodino ho qualcosa Non ho un cazzo Madonna mia Allora vediamo se possiamo fare dei proiettili per pompa Ma mi sa che la cartuccia io devo ancora sbloccare Ecco munizione semplice per doppietta Bene per fare le munizioni non ci vuole tanto onestamente Perché infatti noi possiamo fare 100 proiettili di questo Quindi sprechiamo 100 di ferro E la polvere da sparo però è poi quello che ci serve per fare i proiettili Nel frattempo posiamo tutti questi oggetti da costruzione Che ci sono rimasti in mano dall'episodio precedente E di frecce siamo messi male Per fare le frecce Selce, fibre, paglia mi pare Prendiamo selce, prendiamo paglia e fibra, selce E ci prendiamo 100 narcotici Che dovremmo aver fatto nell'episodio precedente Esatto 249 Ancora 100 si stanno facendo Quindi a posto Perfetto io preparo tutta sta roba Mi aggiusto pure l'armatura già che ci siamo E poi siamo pronti Ok finalmente ho fatto le frecce narcotiche Questo significa che posso volendo prendere questi narcotici Posarli qui Se li possiamo abbiamo quante frecce? 125 frecce narcotiche che non sono male 200 proiettili Mamma io ho pure 40 colpi per il coso Mi hanno riparato l'armatura che ci hanno spasciato ieri Me la metto Perfetto Mettiamoci l'armatura E possiamo fare 66 colpi del pompa Ovviamente 66 colpi del pompa mi sembrano un po' eccessivi Facciamo soltanto 30 proiettili Ah ricarichiamo il nostro pompa Abbiamo pure il laser Ora si che siamo Fottutamente armati Mamma mia Oh ma quanto mica è grande sta pompa Bene Siamo pronti per il viaggio Io direi di portarci dietro Giusto qualche crocchetta Non si sa mai Questa è superiore 5 Vabbè ma non ce ne facciamo nulla attualmente Vabbè Diamo senso Allora l'idea è quella di fottere uova di viverna Quindi dobbiamo andare intanto nella zona di viverna Ok non dovremmo essere tanto lontani Guarda il golem Guarda c'è un golem lì Minchia no Guarda non si capisce Stiamo bruciando tra l'altro Questa zona è caldissima Io toglierei l'armatura Anche se ste viverne mi preoccupano un botto Ok raga Ecco qua la zona di viverne E sempre qui si trova anche la morte con gli occhi L'idea sarebbe quella di prendere C'è Tony di voi che mi ha detto pure Come dargli i nomi alle viverne che prenderò Quelle degli elementi Adesso non mi ricordo Mi ricordo uno in generator mi pare Adesso il problema è semplicemente trovare Evitare di morire male Perché sennò qua ci moriamo malissimo Bene Ci siamo Non si torna più indietro raga Questa purtroppo è una cosa brutta da fare Solo la prima volta Perché siete inizialmente disarmati Altri in questa mappa ci sono delle colorazioni degli animali fantastiche Dovremmo essere più veloci di loro Quindi da questo punto di vista non dovremmo avere molti problemi Ok qua c'è un uovo Un uovo acido Eh sì però se si bugga Ma porca puttana Eh però questo cazzo di uccello si bugga Mi blocca lì tre ore Io devo fare una roba veloce Mi è sembrato di vedere solo un uovo Qua ce n'è una elettrica Livello 60 Ah male 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 Verna livello 60 e non va bene Non va bene E qua si esce attenzione Mi pare che era 60 Ah dai Che cazzo è st'uovo 60 Oddio Mamma mia Mamma mia di nuovo Porca puttana è un po' un trauma essere qua dentro E' pieno di viverne Sono veramente tante Eh il problema è che le uova Le viverne sono tante Ma le uova trombano poco Da queste parti Quello di fuoco dai che questo è il mio preferito L'ho preso Non so neanche che livello è E' stato troppo veloce Pure quello acido Veloce 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 Sto bruciando Sto bruciando Mamma mia Que male Andiamo via Andiamo via Andiamo via Andiamo via Scappiamo un attimo Così facciamo il punto della situazione Attenzione Scusa che cazzo era Ah un gallimimo Sti cazzi Bene Fermiamoci un attimo Mentre che la viverna non ci insegue L'uovo è livello 85 E 50 Quella acida Per carità Abbiamo le tre uova Il problema è il livello Potenziati la velocità Veloce Veloce Sei proprio un coglione Uccello di merda Dai resti tre ore per levelarti Ma che due coglioni Stavo morendo Il brutto delle viverne E' la cosa che le rende Bastarde E' che l'elemento Colpisce anche te Mamma mia guarda qui Devo attirare l'attenzione Di questi Per prendere quell'uovo Vabbè facciamoci un altro giro Magari ne troviamo altre Nel frattempo Aia Oddio Facce ne una di fuoco E' pure il serpenti A rompere i coglioni Ma non ci crederei mai Ma mi inseguono Guarda che colori strani E vabbè Qua abbiamo Eh siamo velocissimi Questo coso Con l'optero era molto più difficile Raga potevamo prendere un uovo alla volta Ma grazie a questo Ptero delle mod Pensiamo che se mi prendono Sono morto La butto lì Adesso velocemente Madonna che brutta Meno male che non ci sono Quelle di ghiaccio Non mi dire che mi ha Mi ha avvelenato Ragazzi Mi addormento Mi sto addormentando Devo volare basso No no Devo allontanarmi il più possibile Volando basso A volte Se dovessi perdere conoscenza Così a caso Serpente di merda Che livello era st'uovo 50 Ma che schifo però Ma buongiorno Signori Io me ne andrei Se qua svengo Ma non mi lasciano andare Ste viverna Vediamo un'altra rapida occhiata Già che siamo qua Non so se questo qui È un altro passaggio Sì Mi sa che è lo stesso D'altro qua pure pieno di cristalli Buona sapere Allora Le uova di viverna Ce le abbiamo Farle schiudere Ci penseremo sicuramente Un'altra volta Quindi io adesso Posso le uova Poi andiamo a caccia Di qualcos'altro Ok siamo arrivati a casa Le uova le possiamo Lasciare a lui Per il momento Io mi prenderei Il mio carno Perfetto Perché il carno Sì vorrei prendere La tigre da una parte Però il carno Trasporta più peso Ed è più forte Ed è più forte Della tigre Senza 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 Ma di dubbio Sicuramente la tigre è più agile Ah no 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 Cambio di programma Devo prendere la tigre Perché dalla tigre Posso usare la balestra Dal carno no Perfetto Andremo di tigre Andremo da questo lato Voglio vedere se riesco A Catturare nuovi animali Ok raga Alla fine sono tornato indietro E ho voluto esplorare Dall'altro lato Perché vado sempre dal lato Dove c'è il ponte di pietra Lì sul lago Questa volta ho voluto esplorare Un po' dal lato Cioè Verso l'obelisco Oddio una giraffa Ecco una giraffa Livello 15 Ecco un paio di cazzi Qua le giraffe sono straaggressive Mica appena ti prendono Ti scassano Mica però io la giraffa raga La giraffa bisogna averla Ovviamente non penso Oh Mica quanta carne pregiata 37 carne pregiata la giraffa Oddio un'orgia di pachirinosauro Che cazzo Chissà come si prende sta roba qua Ma penso sia domestica normalmente Vaca bacca Oddio un t-rex Aspetta Qua facciamo il colpo No livello 50 Che livello sei tu Bello bianco e rosso Livello 20 Ma che schifo Appena cerco Perché appena vado a caccia Sono livello di merda Appena invece Devo addomesticare qualcosa Arrivano Quelli livello 2000 Guarda che bello sto parasauro blu Livello 15 Guarda Devo dire Guarda che brutto Appena dico Guarda che brutto Sono livello 150 Tipo qual è questo terzino Sarà un livello 20 Che livello è 20 oddio Indovinato Orca puttana Dai 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 Non cadere in acqua Tra l'altro devo stare attento All'alterzino Perché colpisce anche me Non so manco in che direzione Sto andando So soltanto che Sto andando In qualche modo Sarebbe bello prendere un orso Iniziare a prendere il miele Dimmi che è un maschio Ma noi è una femmina Ma noi cosa siamo A noi siamo un maschio Però è livello 20 Ed è pure RGB A me fa cagare Sta colorazione così Non sei degna Eh vabbè Cazzo è sto terzino 55 Arrivedergliela Oh eccolo un orso Ci abbiamo pure il rinoceronte Aspetta che l'orso Mi interessa di più 145 L'orso 20 il rinoceronte Allora io direi Di levarci dai coglioni Il rinoceronte Ma porca puttana Madonna Ok Fatto fuori il rinoceronte Mamma mia ma qua ci sono altri due orsi E un tech 135 135 95 Poi vediamo se possiamo fare la coppia Fatevi dal cazzo Sperando che gli altri non si siano incazzati Madonna È veloce storso eh Mi sa che lo allontano dagli altri Così evitiamo Oddio Mamma mia se si è vagato male Pure il terzino che rompe i coglioni Dai Oh ma quanto sei veloce Ma porca madonna Ma che proprio mira eccezionale Guarda C'è pure il raptor da quel lato Mamma mia ma che sfiga Dai 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 che mi serve l'orso Dai l'orso balù Prendi prendi tutto Quante miliardi di frecce ci vogliono Buon uomo Dai Mamma mia ma fa un mare di male Ci muore la tigre Ma è pieno di orsi Speriamo che quello non si incazza ora Devo No Il micro raptor del cazzo Dai che ci muoio Mi è morta la tigre Micro raptor di stigrancà Ma non ci credo mai Speriamo che se li fa Ma non penso Bello che eravamo andati pure a caso E non so manco dove ero Eh tienili tu per adesso Ste uova guarda Ok raga non so come Ma ho ritrovato il loot E la tigre è viva Mamma mia raga Guarda Guarda quanto gli resta di vita Cioè ma tu guarda Con quanta vita me l'hanno lasciata Cioè raga mi stava morendo la tigre L'armatura è spacciata Micro raptor di merda Porca puttana raga Li freddo male Li freddo male sti animali Li freddo male Fai una roba va Ripausati Qua c'erano altri orsi Minchia quello era pure a livello buono Ci ho sprecato un mare di frecce E poi alla fine mi muore così Questo qui mi servirebbe un maschio A livello alto Eh Buongiorno Buongiorno Argentavis Lei È leggermente bagato Non so se se ne è reso conto Argentavis Di questo livello Cioè Io non ho parole Io non ho parole Non ho parole Basta mi sono rotto il cazzo Bra Non ti conviene venire Perché A mali estremi Ragazzi estremi Meglio uso il pompa Me ne sto fottendo Allora qua c'è un tech E i tre orti Non ti incazzare Vengo in pace Vengo in pace Devo solo capire chi di voi Devo prendere 135 il primo 20 il secondo Per il secondo Potrei freddarlo Per esempio Quello lì Ok Quanto cazzo leva Metà vita con un colpo Ok Ne rimangono due Aspetta che leviamo il cadavere Pure del buon uomo Perfetto No Che cazzo significa Mi ero incastrato Madonna Ma che sfiga Ok Adesso devo solo capire Che livello è l'altro 135 E 95 Allora volendo potrei provare A prenderli tutte e due Il problema è come Perché sti cosi sono atletici Ecco Se parliamo Di atletico Sa che è la miglior cosa Da poter fare No Sono atletici Perché questo sta scappando Ma Non mi dire Aspetta un attimo Quale ho ucciso dei due Io mi Ok Sì ho ucciso quella al 95 Bene Ok Ne rimane uno Uno lo possiamo gestire Vai 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 Che sei mio Non dovremmo avere più Troppi problemi Tra l'altro io sto morendo Non so perché Recupera vita Non me lo dire Non me lo dire Non è possibile Non è possibile Guarda non so ti salvo il culo Comunque il pompa è OP Non vorrei dire Non mi fare sti scherzi Ora Il problema è che se Quest'orso Decidesse di Sono morto Wow Che culo Che culo Un solo colpo e ci stende Ma ci serve Ma ci serve un punto Dove poterci Fermare Devi bagarti Qua Devi bagarti L'unica pietra Che vedo Fattibile Adesso tu ti baghi Lì Bello Bello E invece no Ma porca puttana Ho preso l'ala Del Ma che Ma porca puttana Chissà se lo prenderemo mai Storso Gli ho tirato Trentamila frecce Tra l'altro Mamma mia Fa un sacco di male Comunque Sta scappando Finalmente Dai 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 Che è nostro Dobbiamo prendere il fucile Comunque Non te ne andare Dove c'è il terzino Ti prego Non fare A tradimento Per favore Non fare quelle infamate lì Che Scappano Poi si girano E ti freddano male Casualmente Se ne è andato Verso il terzino Mi sono cagato Raga Per un attimo ho detto Sono morto È finito Dai 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 Cadi 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 verso Cadi qui Cadi qui che è buono Cadi qui che è buono È un buon punto Dove morire Dai orso del cazzo Però E niente Sei in matrix Sì Sì Mamma mia Ok Dovremmo avere In teoria Con Con lui Della carne Aspettate un attimo Che ho un conto In sospeso Con Raga Ma io Il pompa Perché Non l'ho mai usato Vediamo il tech E tu Figlio di puttana Hai rotto il cazzo Ah Adesso si che sono una persona Realizzata Ok Adesso dobbiamo soltanto Aspettare circa sei anni Ci vediamo l'anno prossimo Mamma mia Oh Si è alzato Ma buon tonno Buon tonno Meta orso Livello 202 Ti metto nella capsula E andiamo a casa Entra nella pokeball Figlio di puttana Abbiamo due capsule Su tre vuote Ci rimangono un bel po' di frecce Volendo Abbiamo ancora 75 frecce Non è male Possiamo puntare a qualcos'altro Terzini Non ci servono Oh Un tapajera Di quello lì ho trovato la sella ascendente Due selle ascendente Il problema è vedere che livello è Soprattutto ci vorrebbe una bella bola Da farci Inizierei a preparare per la bola Eh Cosa serve per la bola Mi pare fibra Se non sbaglio Serve un po' di fibra Forse paglia e legno O forse dovremo farcela Vediamo Chiamo una sola bola Speriamo che atterra però Che livello è intanto Che io mi sto programmando il mondo Magari un livello 25 Porca madonna Niente Tapaiera sarà per un'altra volta Per risalto sono velocissime Hanno una sella a due posti Sono molto fighi da usare Quando si gioca in più giocatori Vorrei prendere qualche animale nuovo della moda Tipo la giraffa O il pachirino sauro Ma vuol tonno Lei che livello mi è? 50 Vado a cagare Non so manco come si addomestica sta roba 140 Non dovrebbe essere Difficilissimo farlo Però aspettate una roba Perché io con sta roba Con sta roba qui Non riesco Perché comunque devi volare Devi fermarti Io lo farei con la tigre Se evitiamo di farci colpire Mamma mia Messa male Potremmo farcela Dobbiamo soltanto Cioccarcela bene Se continuiamo così Non dovrebbe essere un problema Non dovrebbe Mamma mia Non dovrebbe Mamma mia Ok inizia a tirare il gas Per scappare Presumo che in questo stato Lui Sì scappando Oh Ah così si addomestica Cazzo di animale è? Intanto presumo sia erbivoro Quindi mangi bacche Io Mezzo tutto ciò che ho Mangiati pure Dei rottami metallici Ah ma è questo che sto raccogliendo Pensavo queste piante strane Ah ok sta mangiando Ok ci mette tipo 26 ore Per svegliarsi Però ci sta Prima o poi si sveglia comunque Ok nel frattempo Lascio la tigre qui Di guardia Nel frattempo Prende un po' di vita Che Mamma mia Sta morendo La mia tigre Il problema è che non ha cibo Vediamo se ho un po' di cibo Sull'uccello Che detta così suona malissimo Insomma si intende lui Che lì dobbiamo dare un nome Come in effetti Gli diremo proprio un nome Tipo se quello era Alfredo Questo qui è Asvaldo Perfetto Eccolo qua Ma non ha Non ha un cazzo lui Dovremmo procurarci del cibo Me la voglio rischiare eh Però se funziona Porca putta Ecco come procurare cibo Micia ma funziona Ma io ho tutta la vita pompa Ok dobbiamo Oddio ma si sveglia subito Mamma mia Prendi le bacche nere No devo raccogliere No è un casino Devo raccogliere subito Dai 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 Raccogliamo bacche Raga io ho due ore Che raccolgo Qua bacche Mangiati qua bacche nelle Gli diamo soltanto le viola Raga così mangia Quella è più potente Niente devo fare così Prendi fai Fin quando si addomestica Nel frattempo noi abbiamo fame Porca madonna Ok diamogli queste altre bacche Nel frattempo ricarichiamo il pompa Patienza raga Dovremmo fare questo giro qui Il tempo che si addomestica sta roba Mamma mia sta facendo pure notte Madonna Mamma mia il 34% Ah Se riesco mi faccio un falò Perfetto Posso fare il falò E il sacco a pelo Così almeno passo la notte Se no è un casino Vediamo se posso pure Grafftarmi Fuoco da capo C'è un piccolo accampamento qua Oh Signori Finalmente Finalmente Si ha domesticato Il nostro piccolo Pachirino sauro Mai avuto Da quando gioco ad Ark Raga Mai preso Quest'altro Non so che cazzo fa Per il momento Lo mettiamo Nella capsula E basta Entra qua nella capsula Dovrei vedere pure Cosa ho lasciato qua Dovrei Prendere pure La tigre Raga La prendo nella capsula E me ne vado Con il Il coso E ritorniamo a casa Raga per questo episodio Possiamo anche salutarci Va bene Andiamo verso casa Raga Adesso non siamo manco lontani Come vedete L'obelisco blu è qui Guarda cosa c'è Verso casa qua Dai che sculiamo Pure qui Si sculiamo Proprio un paio di cazzi A cagare Signori Eccoci arrivati a casa Io direi che per questo episodio Ci possiamo salutare qui Abbiamo finalmente catturato Quello che sarà Il nostro Pachirinosauro E poi l'altro animale Che cazzo L'uomo preso Che l'ho dimenticato Ah l'orso Il super orso Incredibile Mamma mia Come fa Una persona a dimenticarsi Di lui Che ci ha fatto Pestemmiare 64 lingue Però guardalo qui In tutta la sua potenza Cos'era Una femmina o un maschio Ah mamma orsa Si Una femmina Bene io poi li farò le sell E niente Ci vediamo nel prossimo episodio Ciao vedemi Ciao